Il primo maggio a Fornaci di Barga, una festa diversa da quella dei primi anni 60, quando questo paese industrializzato, avanzato, faceva sfilare sul lungo il corso di Via Repubblica le vespe, le lambrette che poi si recavano al campo sportivo a fare una gincana che vedeva dei campioni, dei veri e propri campioni nazionali, giungere qui a Fornaci dove si correva anche la Fornaci Barga che era valevole per il campionato italiano. Il motore la faceva da padrone in quegli anni, poi per addolcirlo si inventò e si accoppiò la festa del fiore che oggi è un cardine di questo appuntamento che fa convergere decine e decine di migliaia di persone da tutta la Toscana, tanto è vero che il paese è interamente chiuso e per accedervi bisogna posteggiare a qualche chilometro di distanza. Inaugurazione in grande stile della mostra a mercato del primo maggio a Fornaci di Barga, che quest'anno ha superato il mezzo secolo di vita. Siamo giunti infatti alla 51esima edizione. Molto suggestive le due bande musicali che hanno sfilato in via della Repubblica. Il corpo musicale del Giglio di Fosciandola sono partiti dalla zona nord per raggiungere la piazza a 4 novembre dove erano presenti le tantissime autorità, mentre la banda musicale dei Corelli Antelminelli è partita da sud per raggiungere anche loro il centro. Successivamente le tantissime autorità presenti hanno effettuato il simbolico taglio del nastro e inaugurato ufficialmente la manifestazione. Tra le tante associazioni e gruppi presenti alla manifestazione, anche gli operai della, possiamo dire, ex cartiera Corzonna, che in questi giorni attendono di conoscere il loro destino lavorativo e ne parleremo nel nostro servizio. Dopo il taglio del nastro, le bande musicali hanno suonato insieme l'inno di Mameli, dopodiché le autorità hanno fatto i loro interventi. Il primo è stato il presidente del comitato primo maggio a Fornaci che ha sottolineato il momento delicato che stiamo attraversando, ma ha anche fatto notare come proprio da Fornaci emergono dei segnali positivi. Successivamente l'assessore provinciale Mario Regoli ha centrato il suo intervento sul momento difficile occupazionale della provincia, toccando direttamente anche lui il tasto degli operai del scatolefficio appunto Corzonna. Successivamente il sindaco di Barga Marco Bonini, anche lui ha sottolineato il momento delicato appunto per gli operai della Corzonna, ma ha anche parlato della necessità di dare dei segnali positivi in questo momento così delicato. E il primo maggio a Fornaci è l'esempio di come insieme si possa vincere, superare e superare appunto la crisi del momento. Molte le autorità presenti, tra cui il sindaco di Coreglia, il sindaco di Fosciandola, il consigliere regionale Ardeglio Pellegrinotti e Marco Remaschi, i parlamentari, l'onorevole Raffaella Mariani e il senatore Andrea Marcucci, ma anche molte autorità militari, come i comandanti delle stazioni dei carabinieri di Fornaci di Barga, ma anche della Guardia di Finanza di Castelnuovo. Anche molti consiglieri comunali, ma soprattutto tanta, tantissima gente. Per noi, Daniele Vanni, avvicinato il senatore Andrea Marcucci. Senatore Marcucci, oggi è il giorno della festa del lavoro, quindi è anche un momento di ripensamento sulla situazione della nostra vallata. Non pensa che questa zona, che ha delle fragilità particolari, meriti a questo punto, con la gravità dell'occupazione che c'è, una legge speciale? Purtroppo, diciamo, la situazione complessiva del Paese è una situazione molto, molto difficile. Quello che c'è da fare sicuramente è un fortissimo coordinamento tra le istituzioni a livello comunale, provinciale, regionale e statale per verificare tutte le opportunità e drenare qua tutte le risorse necessarie per il rilancio economico. Parlo delle infrastrutture, parlo delle scuole, parlo anche del supporto all'impresa. La festa di oggi, del primo maggio, anche con la presenza dei lavoratori del Corso Onna, che è una delle grandi aziende in crisi, ma purtroppo non è l'unica, testimonia proprio questa situazione difficile, ma testimonia anche la voglia del nostro territorio di rilanciarsi, di guardare al futuro, di lavorare e di impegnarsi per avere una prospettiva che oggi oggettivamente è difficile da intravedere. Con il sindaco di Barga Bonini continuiamo il discorso che abbiamo fatto di riflessione sul lavoro anche col senatore Marcucci. che chiedeva alle istituzioni e soprattutto alle amministrazioni locali della Vallata di fare squadra per fronteggiare questa situazione che oggi è rappresentata anche dalle tute verdi del scatolificio Corso Onna. Sì, noi ovviamente oggi qua abbiamo parlato del Corso Onna perché il Corso Onna è un'azienda importante del comune di Barga, quindi siamo a Fornaci di Barga, era giusto parlare del Corso Onna, ma è un problema che va oltre il Corso Onna. Ci sono altre aziende, magari più piccole, è il caso per esempio della Fanani di Firecchio, proprio di questi giorni, la notizia anche qua di problemi seri. Stiamo lavorando, stiamo lavorando per dare una continuità produttiva al sito del Corso Onna con un ricollocamento sul lavoro di un numero di dipendenti che ovviamente non potrà essere quello complessivo. Proprio per questo vogliamo anche insieme agli altri sindaci della Valle, insieme alla provincia, insieme ai nostri rappresentanti regionali e nazionali, insieme all'associazione industriale, fare una specie di accordo, chiamiamolo così, in cui le aziende più importanti della Valle, quelle che hanno la possibilità di un turnover, perché ci saranno persone che escono dal mondo del lavoro, possano proprio per questo attingere dalla mobilità o dalla cassa integrazione che ci auguriamo di poter riuscire a rendere la cassa integrazione in deroga al Corso Onna. Sono circa 80 dipendenti, quindi un numero importante per il tessuto produttivo della nostra valle e il nostro impegno deve essere massimo per questo. Ma oggi è anche un momento di festa, una festa nata negli anni del boom con le moto, le macchine, ma anche i fiori, quindi è anche un momento così di gioia e di festeggiare la vita della vallata. A noi dobbiamo non dimenticare i problemi del lavoro, i problemi occupazionali che la nostra valle ha, ma dobbiamo festeggiare anche questo primo maggio con questo spirito, quindi è anche una giornata di festa. Abbiamo sentito stamattina che nonostante la crisi che c'è in giro, questa è una mostra a mercato che continua a crescere. Gli espositori aumentano, quindi vuol dire che il lavoro che il comitato insieme all'amministrazione comunale, insieme a tutti quanti collaborano per la riuscita di questa manifestazione, è un lavoro che viene portato avanti in maniera positiva. E quindi è una festa nella quale la gente crede, gli espositori credono, è una delle mostre mercato più importanti che abbiamo nelle nostre realtà territoriali e quindi ecco le tante persone che sono state qua con noi stamattina, i tanti espositori che ci sono, ci fanno pensare che anche quest'anno l'obiettivo è stato colto e quindi sarà un bel primo maggio a Fornaci. Il 14 luglio di ogni anno, il giorno della presa della Bastiglia, fanno convergere a Pian di Coreglia i campioni del cross, del freestyle e del supercross a Pian di Coreglia. Sì, sì, grazie a tutti i ragazzi del Motoclub 360 Freestyle, insomma cerchiamo di organizzare un evento importante insomma in Italia, l'Internazionale Italia del supercross, ci saranno il 14 luglio qua a Pian di Coreglia. Ecco, la vallata ha sempre avuto tradizioni crossistiche iniziando dalla regolarità, dal ciocco. Sì, sì, anche mio padre 30 anni fa qua c'era una pista a ogni paese, adesso purtroppo negli ultimi anni ci sono stati un sacco di problemi, insomma noi speriamo e cerchiamo di lavorare per il meglio per riportare una cosa antica da queste zone. Come ci posizioniamo? Come ci posizioniamo? Il supercross è una tipologia di gara un po' particolare, sono piste corte con doppi salti, con wops, fuori dagli schemi del motocross tradizionale. Molto spettacolare, tant'è che si corre anche in notturna e invito tutti a vedere questa tipologia di motocross perché è veramente spettacolare. Le moto dal punto di vista tecnico? Le moto dal punto di vista tecnico non cambiano molto, hanno una varietà di tarature e di sospensioni perché con le wops e la tipologia dei salti vanno adeguate a questo terreno, però l'evoluzione delle moto hanno fatto sì che qualsiasi moto anche presa dalla casa madre sia validissima per correre questa tipologia di gare e poterla anche vincere, senza particolari preparazioni tecniche. Musica 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 qualche goccia di pioggia ma l'acqua è una delle risorse di questa vallata che si snoda proprio lungo il fiume Serchio e non a caso le montagne che sono alle nostre spalle confluiscono su queste montagne dove risiedevano gli dei degli apuani e dei celti confluiscono le nubi da tutto il Mediterraneo ma tra un poco gli esperti dicono che il sole tornerà a far capolino ma qui la gente nonostante gli ombrelli continua ad affollare il centro di Fornaci di Barga segno e presagio che il prossimo primo maggio qui a Fornaci superati anche i problemi lavorativi occupazionali di cui abbiamo parlato in apertura saranno superati perché il sole tornerà a splendere sul primo maggio del 2013.